Domenico Izzotti sta per iniziare una nuova stagione, una nuova avventura, un nuovo progetto sulla panchina del Sant'Omero. Sì, iniziamo domenica, ho scelto Sant'Omero perché poi anche lo scorso anno facevo settore giovanile lì e di conseguenza è una piazza che punta molto ai giovani, tant'è che il progetto di quest'anno prevede un inserimento anche di tutto il gruppo Juniors insieme a quello della prima squadra, appunto per dare l'infa del settore giovanile come sempre ha fatto Sant'Omero. Abbiamo fatto una buona squadra sicuramente, anche se devo dire, visto il nereto di una settimana fa che in due partite ha fatto bene, benissimo, devo dire che loro in questo momento stanno meglio di noi, sono sicuro che però che con il lavoro possiamo ovviare a questa problematica. Inizia il campionato, inizia la stagione, i primi impegni che grado di difficoltà hanno insomma quegli avversari che andrete ad affrontare? Altissimo, altissimo perché io ho mandato già un ragazzo che è andato a vedere appunto entrambe le squadre, parlo anche con i fatti perché poi mi piace anche tornare indietro, so che il Cellino ad esempio ha mantenuto tutta l'intellettura dello scorso anno e ricordo che è stata una squadra l'unica a bloccare in casa il Casoli che poi vinse il campionato, mi hanno detto che è una squadra che gioca bene a calcio quindi non sarà facile affrontarli nella prima di campionato che poi già di per sé è sempre molto difficile ma soprattutto è un avversario ostico, molto ostico. Per poi parlare della seconda partita, lo stesso Teramo Stazione, lo scorso anno ricordo che ha bloccato, ha fermato l'Universal Roseto anche se poi la partita l'ha perso per 5-4 però diciamo che il Teramo Stazione aveva raggiunto già il suo obiettivo ma mi dicono anche se è una squadra molto forte, quotata, con un bravo allenatore, un'ottima società che da tempo ormai in questa categoria detta legge. Santomero che comunque insomma proseguendo nel suo percorso insomma storico di valorizzazione dei giovani punta comunque ad un campionato insomma tra le prime no? Questo sì, indubbiamente sì, anche se devo dire che il Varano insieme a Nereto a mio modo di vedere ha qualcosa in più, poi se è meglio di me io non amo i proclami ma dico solo che sul campo poi bisogna battagliare, bisogna lottare, personalmente credo molto nel lavoro e magari chissà attraverso questa componente potremmo ambire anche noi a qualche posto importante però come sempre dico l'obiettivo lo fa il campionato, se dovessimo lottare per le zone basse vuol dire mi auguro di no, che lotteremo per salvarci, se dovessimo stare in alto non ci treremo indietro, magari alla ricerca sia del Varano che del Nereto che vedo sicuramente favorito.